Un ben trovato a tutti a questo appuntamento di Cinema e Psichiatria, appuntamento che si propone di creare l'aggancio tra aspetti di psichiatria, di psicopatologia e cinema, dimostrando poi come il cinema riesca a riportarci storie che sono interessanti di per sé, sono film che io reputo veramente validi e meritevoli di essere visti, ma che ci forniscono anche informazioni sugli aspetti psichiatrici. Ovviamente la mia è un po' una critica, se così si può dire, al cinema da un punto di vista psicopatologico. Quest'oggi vi parlerò di anoressia, quindi disturbo alimentare che ha di maggiore gravità e che è caratterizzata dalla restrizione dell'assunzione del cibo rispetto a quello che sarebbe necessario da un punto di vista salutare, secondo diverse gradazioni, un'intensa paura di acquisire cibo e un comportamento persistente legato a questa restrizione che può manifestarsi sia attraverso un streno esercizio fisico o attraverso comportamenti di compenso, tra cui il vomito o l'uso di lassativi, è un disturbo dell'immagine corporea con un'influenza sull'autostima. Ora ci sono tanti film o un certo numero di film che affrontano anche il tema oppure ci danno anche di lato qualche immagine di ragazze anoressiche, ovviamente parliamo di anoressia e in gran parte parliamo di ragazze. Tra questi film c'è per esempio, ci sono diversi film che non è che affrontino il problema dell'anoressia, ma ci sono immagini di questo tipo, uno è per esempio Dolce la vita del 1990 di Mike Lee che ci fa vedere uno spaccato di una società inglese della periferia con due ragazze, una delle quali è decisamente anoressica, restrittiva e ha anche comportamenti di abbuffata e poi di eliminazione. Il film Ragazze interrotte insomma di cui ho già parlato e alcune di queste ragazze hanno caratteristiche appunto di comportamento anoressico. Il film Elephant che è un film tremendo di Gusu Assant che riportava diciamo nel film tutta la storia del massacro avvenuto, il massacro di Columbine in America nelle scuole, ci sono delle ragazze che hanno comportamenti anoressiche. C'è il film Bricciole che è del 2005, non un film eccelso dal mio punto di vista, ma che didatticamente è molto utile perché mostra tutta una serie di comportamenti, inclusi quelli della famiglia, una famiglia che si aspetta che la ragazza anoressica si comporti in una certa maniera e sono molto osservanti durante il pasto, è molto interessante da andare a vedere. Sempre su un versante italiano c'è il male di miele del 2010, anche qui abbiamo una situazione di una ragazza anoressica e il film è centrato proprio su questo. Ricordo poi l'eleganza dei numeri primi di Saverio Costanzo con Alba Rorvacher, in cui la storia è un film molto noto che nasce poi da un romanzo precedente e in cui l'Alba Rorvacher interpreta assolutamente in maniera valida il percorso di una ragazza che affronta il tema dell'anoressia. I film sono diversi, però quello che mi piace di più in assoluto è Fino all'Osso, To the Bone, in inglese, del 2017 di Marty Noxon ed è interpretato da Lily Collins. Lily Collins è tra l'altro la figlia di Phil Collins e quindi, va beh, ma questo è giusto per una notazione, per fare un po' di agganci, ma la cosa interessante è che Lily Collins è stata a sua volta realmente anoressica e lei dice appunto ha patito molto, soprattutto l'assenza del padre, che era sempre via in tournée. Quindi lei è stato, non dico facile, ma insomma agevole e consono a se stesso interpretare questa ragazza anoressica, che è una ragazza anoressica, io lo scelgo questo film proprio perché lei riesce a rappresentare anche fisicamente il fisico di un'anoressica, cosa che non avviene in altri film. Lei ha perso 9 chili, evidentemente non era, non è di suo, insomma molto diciamo con un corpo molto pieno, ecco diciamo così, e quindi perdere 9 chili che si può fare, ma l'ha resa veramente fisicamente molto anoressica e questo rende molto, rende molto altri film, anche quelli che ho citato, per esempio Briciole, insomma si c'era tutto il comportamento, ma non il fisico, non si sarebbe detto. Ecco, che cos'è la storia di questo film? Giudi è questa ragazza che è fortemente improntata ad un comportamento alimentare restrittivo, vive con il padre che si è separato dalla madre, fortemente sofferto per questa separazione, la madre è andata via per vivere con una compagna, viene accolta all'interno della seconda famiglia del padre, dove trova peraltro una matrigna e una sorellastra che si danno da fare per lei e vogliono cercare di aiutarla. Lei dice più volte, io non so perché sto facendo così, non ho idea dei motivi. C'è tutto il comportamento restrittivo, c'è tutto il body checking, cioè il controllo fisico insomma del rispetto alla propria fisicità, sia in senso generale sia in particolare. Per esempio, una delle cose che fa e che poi è anche tipico delle ragazze anoresse, che è quella di misurarsi il diametro del braccio, facendolo circondare dalle due dita della mano, per vedere se per caso dovesse ingrassare. Ecco lei viene accolta, alla fine si convince di essere accolta in una struttura, in una casa di cura dove c'è un medico e dove trova altri ragazzi. Insomma diciamo l'idea è che un miglioramento si abbia attraverso anche un confronto con altri ragazzi. Se lei trova un ragazzo, un po' un'anomalia in questo senso all'interno di questa struttura, e c'è tutta una storia che nasce tra i due con grande diffidenza. C'è anche il confronto con il medico, interpretato da Keanu Reeves, che ha un po' un atteggiamento, devo dire, un po' troppo generico, generale, insomma, sulle filosofie della vita. Però insomma c'è un tentativo di affrontare, ma lei non riesce a uscire da questa situazione. Insomma poi ritorna invece questa volta a casa della mamma, e c'è questa scena un po' che è molto regressiva, in cui insomma lei è allattata con un biberon contenente dell'alimento, insomma. Più volte in questa vicenda lei si trova veramente senza forze, sviene, e quindi sviene già quando era presente nella struttura, poi sviene per dei sensi, insomma, quando era a casa, lì a una specie di dormiveglia, sogno, eccetera, in cui compare questo ragazzo che si chiama Luke, quando si risveglia lei si vede, è andata all'aperto, quindi vede sdoppiandosi, no, con quel fenomeno che si chiama autoscopia, stiamo guardandosi dall'esterno e si vede a quel punto molto magra, e forse a quel punto potrebbe iniziare a rendersi conto, insomma, della gravità della malattia. E' una ragazza che è a un certo punto anche cosciente del proprio stato di male, dice mi spiace non essere più una persona, ma un problema, dice crede che io non mi senta in colpa, so che sono un casino, si rivolge al medico, lei dovrebbe insegnarmi come non esserlo. Peraltro dice anche ho tutto sotto controllo, non mi capiterà niente di brutto. E si confronta anche con la sorellastra, dice come ci riesci intendo a mangiare, io ti guardo e mi sento andare nel panico solo a pensarci, come se il mondo potesse implodere all'improvviso, non hai paura di non riuscire a fermarti, e che ribadisce non riesco a fermarmi, non so nemmeno il reale motivo, so solo che non ce la faccio. Bene, insomma, questa è un po' la storia, se vogliamo finisce, no, queste storie finiscono, insomma, quando vogliono essere, vogliono proporre un happy ending, insomma, l'amore che, voglio dire, che può sbocciare, può far cogliere alla ragazza una motivazione a vivere, se accettiamo questo tipo di finale. Comunque, diciamo, è un film molto intenso, lei, la Lily Conis, è molto brava e io lo consiglio senz'altro. Vi saluto al prossimo appuntamento.